Mi chiamo Zanussi Bruno, sono responsabile della Nordica Extraflame per l'estero europeo. Sono responsabile per le firme Nordica e Extraflame. In Europa in generale la Nordica è tra le più grandi aziende. L'Europa è una delle più grandi aziende. Abbiamo scelto questo cliente che è tra le più importanti in Russia. E siamo contenti che abbia scelto la fiera Salone Caminetti. E siamo contenti che ci sono stati presentati per le salone Caminetti e Salone Caminetti. E anche per questo cliente, sicuramente, avranno un successo. E anche per questo cliente, credo che la nostra produzione avrà un'esplice.